Mettiamoci alla porta. Mettiamoci alla porta. Voltare a sinistra. Mettiamoci alla porta. Mettiamoci alla porta. Mettiamoci alla porta. Voltare a destra. Voltare a destra. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire adesso. Andare. Andare a destra. 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 Oh Andare dritto Voltare a sinistra Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito Abbiamo finito